Siamo malissimo collega, se questa è la missione d'esordio ci licenziano appena rientro Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, siamo su un nuovo gioco, si tratta di Autobahn Poli Simulator 3, questo poi c'è anche la versione sbloccata per quanto riguarda l'offroad Chi segue il canale da tanto, tanto, tanto tempo, sa che questo gioco è un gioco molto particolare per noi perché è stato il primo gioco in assoluto che ho ricevuto in omaggio da Nosoft House per recensirlo, all'epoca mi ricordo che ci avevo veramente pochi iscritti tipo 300 iscritti, una cosa del genere e recensimmo Autobahn Poli Simulator 2, c'aveva una marea di bug, una grafica orribile, però era divertente così sono riuscito all'epoca, mi ricordo che ero pure in imbarazzo perché loro mi avevano regalato il gioco, era la prima volta quindi ero combattuto tra il dire che il gioco era un po' bruttarello, però che comunque era divertente, poi erano stati carini eccetera eccetera, quindi ho trovato il mio modo in quell'occasione di fare le recensioni e cioè metterci tanta tanta ironia, così sono riuscito a far capire che il gioco comunque aveva dei difetti rispettando il lavoro loro, ma soprattutto che comunque era divertente. Ovviamente l'Aerosoft, che li ringrazio perché ci mandano qualsiasi gioco ragazzi hanno riempito dei giochi e molti manco li ho portati qui sul canale perché poi li provo e magari non riesco a crearci un video, una sceneggiatura, qualcosa da facce sopra. Ci ha mandato anche il 3, quindi adesso lo proveremo anche con questo modulo off-road e come ho detto sono legato un po' sentimentalmente a sto gioco, speriamo che sia divertente perché l'altro era molto divertente. Già il fatto che sto gioco sia in italiano è un punto di partenza perché quell'altro non era così. Io non l'ho mai avviato, è la prima volta che lo lancio e come vedete lo sto a giocare col pad perché il simmagic non ci riesce a funzionare su questo gioco per il momento, altronde è un gioco che è uscito adesso, magari ci vorrà un pochino di fix per farlo funzionare. Comunque andiamo a vedere di che si tratta. Prima di andare avanti però vi voglio rubare un secondo per farvi vedere questa statistica, molti di quelli che guardano i video di questo canale non sono iscritti, quindi vi ricordo che se vi piacciono i contenuti iscrivervi non vi costa niente, ma date una grossa mano al canale perché più iscritti ci sono, più ci si presentano opportunità di far cosette molto molto fighe. Quindi quello è il tasto iscriviti, se vi va iscrivetevi. Oh, eccoci qua innanzitutto stiamo dentro l'inizio, dobbiamo selezionare il personaggio, cambia genere, a questo possiamo cambia genere, cambia personaggio, vediamo un po' che tizi, i tizi sono questi, non è che c'è stata tantissima scelta, quindi penso che seguiremo questo tizio qui, cambia camera, che cavolo è, ah questo è per illuminare la faccia, va bene. Ok, eccoci al nostro primo giorno nella polizia stradale, ah aspettate c'ho avuto un incidente, attenzione, brutta storia, ah in realtà non era il nostro primo giorno lavoro, ce la lavoravamo già qui c'ho avuto un brutto incidente, oh poliziai, guardate come sto bello, con la divisa della polizia, ciao capo, oh io sono mio più al capo in realtà, se puoi avere il personaggio quello lì, oh ma attenzione è un caso di corse clandestine, capo mi faccia fare a me sta cosa, questo è un cagasotto, se vede da la faccia, eh che faccio oggi, veicolo rubato, bene dai, ah il furto sarebbe la missione del tutorial, e non fa sta missione del tutorial, dai, comunque i dialoghi si è elaborati, eh non è la che l'hanno buttato in lì così tanto per, allora eh, non sanno qual è la macchina ma hanno cambiato la targa, dovremmo controllare un po' il traffico e vedere se passa sta macchina ma nel frattempo guarda anche il resto, no non rompe che devo andare a vedere il traffico, che vuoi te? Beh, un incarico di responsabilità, ve lo fermo a telefono a questa, magari è una scusa per darci il numero del telefono, eh? Allora, dove vanno? È qua, aprite, polizia, eh, serie 3, questa è quella dell'altra volta, perché pure l'altra volta c'era la serie 3, diciamo che non hanno aggiornato il parco macchine, qui la polizia, abbiamo un budget riscretto alla stradale, abbiamo da fare un chilometro di strada, vediamo se vi è qualcuno, perché dobbiamo fare i bravi poliziotti dalla stradale, se noi infrangiamo il codice dalla strada, già pare un brutto esempio, vedete c'è more cambio automatico, c'è il conto di chilometri questa macchina, eh? Oh, raga, magari vedete che si guida bene? Dunkelbach, Obergefellko, ovviamente è ambientato in Germania senza era capito, raga, tra polizie, i cartelli, la targa tedesca, chissà se le autostrade sono riprodotte in scala o sono in grandezza reale, qui c'è un segnalino acceso, controlla il traffico, per fermare un veicolo guida nella sua stessa corsia e premio lb per aprire il menu azione. Ok, dobbiamo andare a fermare un veicolo, forse era meglio se leggevo tutte queste pagine, vabbè, già mi ha rotto. Attenzione, il veicolo blu è quello che potrebbe corrispondere, dobbiamo fermare questo qui, se mettiamo davanti, che macchina è? Non si capisce che cazzo questa macchina è, sembra una Rover MG, scusi! Fermare l'auto. Oh, che devo fa' qua? Ah io ho preso il muro. Fermare l'auto e poi che devo fa'? Oh, mi si metto davanti. Fermi, polizia! Do d'è andato quello? Oh, ma sei squagliato a sto stronzo? Taci tua, te devi fermare. Oh, ferma l'auto. Fermai il veicolo, nessun veicolo nelle vicinanze. Ma come nessun veicolo nelle vicinanze? È questo, eh. Oh, ma stai a far arrivare in Svizzera, animaccia tua. Dov'è questo? Oh, questo gira a destra. Stiamo malissimo, collega, se questa è la missione d'esordio, ci licenziano appena rientro. Oh, ci sei riuscito! Dovevo stare vicino. Oh, te devi fermare, molto beccato però, eh. Scendi con le mani in alto. Ah, ce l'ho da parlare? No, perché noi, ho visto nei film, si fa così. Eh, perché ti ho fermato, mi portavo al Cisua, ti ho corso ieri per tutta l'autostrada. Controllo i documenti, va. Allora, la patente è buona, ok. Lui c'ha la patente B e può guidare sta macchina e la macchina è intestata proprio a lui, di fatti, questa qui. Quindi tutto corrisponde, di fatto. Allora, io indago sul veicolo, perché noi stiamo cercando un veicolo rubato. Eh, guarda un po' il veicolo, bene. Sembra che gli stiamo fregando la benzina, così. Il freno funziona. Eh, sì, ho capito, ma così possiamo fare la revisione, praticamente. Controlliamo le ruote. Due millimetri, ma sembrano un po' pochi, eh. I fari. Ah, ah, non funzionano i fari, eh. Non becchia la multa, comunque, perché, eh, eh, c'era i fari che non funzionavano. Eh. Vabbè, se n'è andato, collega, risargo. Mo' per correre dietro a questo, venti minuti, per capire come fermarlo, ondo cazzo, allora siamo arrivati. Hmm, that was obviously not a success. What do we do now? Keep driving. The vehicle we're looking for or has to be somewhere. Calling all cars. The stolen car has been sighted. Attenzione, caro, non ti hanno avvistato. C'è tre, Alice. Andiamo a noi all'inseguimento del veicolo rubato. Tranquilli. Il guitatore che hai fermato sta fuggendo. Ferma il veicolo prima che scappi. Puoi farlo guidando davanti al veicolo in fuga per tagliare la strada oppure speronando più volte il veicolo in fuga. Non c'è problema. Ci siamo allenati nella Nascar. Fermo qua. Te muove. Te muove e te sparo, eh. Questo andava in giro che entra la macchina col casco da mezzi pesanti. Vabbè. Un lato alternativo. Ok, primo giorno già mi ha arrestato uno. Questo mette l'ansia comunque come eseguo sempre. No, no. Inseguimento in auto. Difficoltà 1. Puoi fermare facilmente i conducenti, bla bla bla. Rapine. Non è ancora sbloccato. Dai, andiamo a fare questo inseguimento in auto. Invece questo in garage. Aspettate, ragazzi. No, come ci pensiamo noi? Ah, con lei è un piano iniziativa. Voglio andare a vedere che c'era dentro il garage. Magari c'è qualche altro mezzo da via. Ok, veicolo di pattuglia. Ce ne sono tanti, vedi? Però sono tutti bloccati. Dovendo per forza questo. E questo è il veicolo? Fermo, si fermi. Oh, te devi fermare un attimo. sta buono. Ah, non dovevo fermarlo. Dovevo bloccarlo. Questo te dovrebbe essere arrestato solo perché andava in giro con sta giacca. Guardate. Come primo giorno del lavoro non mi pare male, insomma. Lo stipendio lo stanno a guadagnare. Un guidatore sospetto ha appena tagliato la corda durante un controllo del traffico. Accetti? Sì. Ci andiamo a noi. Che scherzo è schiacciato. Ci andiamo a noi, centrale. Andiamo come se muovono al semaforo. Questo va abbastanza normale. Guarda questo come è partito piano. Questo secondo me è un tipo sospetto. Si fermi. Lo fessi aperti troppo piano dal semaforo. Lei sta nascondendo qualcosa. Come avete chiesto di... Ah, è una signora. Buongiorno. Che posso fare per te? Ho stoppito per una check. Allora, mi dite i documenti, va? Please show me a tua licenza e registrazione. Allora, vabbè, la patente già si vede che è giusta per classe di Vigor, perché c'è la patente B. Lei si chiama Luftsilk. Eh, la macchina è testata a lei. Senti, ma non è che è bevuto, signor? Eh, ti devo portare alla stazione, bella, se non vuoi far test, eh? Ah, vedi? Eh, ci senti? Che t'ho subito visto che sei in imbriagona a te. Non ho assunto alcol, eh? Vabbè, oggi ti sei servata. Ah, non gli faccio niente. Vabbè, vabbè, anche mi è stufato. Senti, collega, qui c'è sta un autogrill, penso. Questo sarà un autogrill, fermiamoci un attimo che è un autogrill, va? Beh, ragazzi, questo era il nostro primo approccio con sto gioco. Io spero che vi sia piaciuto. Il gioco è divertente, secondo me non è neanche troppo monotono. Le dinamiche ricalcano un pochettino quelle dell'altro gioco di pulizia che abbiamo portato un po' di tempo fa. Adesso mi sfugge il nome, sinceramente. In cui dovevamo fare, anche lì, praticamente, dei controlli. Però lì era un po' più a piedi la faccenda, mentre qui ce ne andiamo già in giro, perché, di fatto, facciamo parte della pattuglia stradale. Presumo che le missioni siano di vario tipo, perché ho scaricato, come vi ho detto, il DLC per le missioni off-road che mi hanno dato in aggiunta al gioco base. Quindi il giro, per darvi un'idea di quello che tratta sto gioco, ve l'ho fatto. Come vi ho detto, ci sono molto affezionato, quindi io, in realtà, lo vivo magari in maniera pure nostalgica sto gioco. Il gioco lo trovate disponibile per tutte le piattaforme, old gen, next gen e ovviamente per PC. Costa intorno ai 30 euro, più o meno, dipende dalla piattaforma dove lo prendete. Forse è leggermente overprezzato, però se andate a cercare sui siti che vendono le chiavi legali, ovviamente, lo riuscite a prendere a molto de meno. Io spero che vi sia divertiti. Come al solito, ringrazio Airsoft perché ci manda tutti i giochi che vogliamo e, soprattutto, ringrazio voi per il tempo che abbiamo passato insieme. Chissà che magari un pochettino vada avanti per conto mio e vedo che altro c'è, perché secondo me le missioni che ci stanno da fare sono anche diverse e vorrei andare a vedere che sono queste missioni offroad. In caso, porteremo un altro video. Detto questo, ragazzi, non mi rimane come al solito ringraziarvi del tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!